diretta sorpresa sono seduta nella mia poltrona preferita nel terrazzo con un pezzo di pelle, quella delle gambe al sole è una giornata molto molto bella e ho voglia di ridere un po' con voi quindi 2-3 minuti di risate insieme, cioè io rido, poi vedete voi se volete ridere con me ciao Mariangela adesso vi faccio anche vedere la vista ma questi sono... questo è il panorama che si vede al mio terrazzo ciao Franci, ciao Paola ciao Francesca ciao Ah 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 ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah siete belli, ciao Carmelo ciao Savina ciao ciao Paola vuoi partecipare? Io ti aggiungo io ho scoperto che potrei anche invitarvi a ridere qui in doppia intervista perché ormai sto diventando anche esperta, vengo, Graziella ciao, vengo una diretta appunto con Graziella Lorenzini su Casa Figaccioni Friends, abbiamo fatto quasi un'ora di chiacchierata e quindi ho detto vabbè perché non continuare? mi è venuta voglia di fare una diretta credo domani alle 19 adesso la lancerò con una chiacchierata sullo yoga della risata e sul potere della risata incondizionata proprio una bella chiacchierata grazie Franci quindi ecco, probabilmente domani alle 19 saremo in diretta e arriviamo a Vivi e parleremo di risata non mi si ferma più, no diretta a GoGo, grazie oh Dio Franci, ma come dalle 9.30 che meraviglia sono molto felice che state seguendo questi numerosi la risata delle 14 va bene Francesca, dai si può fare ciao Daniela, che bello c'è anche tua mamma Franci ciao Enza oh Dio ma dopo la rivelazione di mia madre Domenica che sta insegnando a ridere a una sua vicina di casa è fantastico è che tutti diventiamo un sacco belli Franci tu lo sai quando gridiamo tu lo sai quando gridiamo cioè Enza e Francesca si sono trovati no no tutti più belli tutti più belli Franci ciao Laura non lo so perché non l'ho mai vista vuole essere aggiunta io lo sto aggiungendo vediamo che succede no nessuna risposta dall'ospite e vabbè ciao Cristina ciao Miriam sono felice Paola Lucia dai che sabato ci scateniamo ciao Daniela siete sempre di più oddio non ho il coraggio di smettere adesso e lo so che vuoi partecipare ho provato aspetta che riprovo vediamo un po' se ce la facciamo fare una doppietta ciao Aurora e piano piano vi aggiungo tutti credo che sia ciao Maria quanto tempo credo che sia un bel modo per diffondere la risata che ne dite ciao Laura cosa totalmente estemporanea uno deve pure stare nel flow e si sente che deve fare qualcosa ciao Nikita dai ufficiale domani alle 19 parliamo di yoga della risata quindi ridiamo a vivi che ne dite e io ci ho provato ad aggiungerci ad aggiungerti Jasnika non so non so non so che dirti non sono ancora proprio espertissima Gevisa ciao ciao Ornella Annelisa oh Dio ciao Roberto io non lo so quanto è che ridiamo perché qui non si capisce però che dite continuiamo Laura accidenti quanto tempo 15 minuti wow e io provo aspetta riproviamo no non riesco allora io approvo e vediamo un po' Beatrice ciao e sto provando ad aggiungerti in teoria Jasnika o Jasnika non so come si pronuncia bene dovresti avere un tasto che ti si illumina in questo momento che sta cercando di aggiungerti oppure prova a vedere se il tuo cellulare funziona solo da cellulare questa cosa se il tuo cellulare ha lo schermo mobile c'è l'attivazione dello schermo mobile ciao Gianni perché solo in quel caso poi l'invitato ha rifiutato l'invito non so ciao Ciao Tina, molto bene, madame! C'è anche il nostro grande capo! Il nostro grande maestro! Molto bene, molto bene, yeee! Molto bene, molto bene, yeee! I'm only laughing, madame, just laugh! Tomorrow I want to talk about laughter yoga, of course! I love you, madame, thank you! Ciao Letizia, ciao Laura, ciao! Viola! Bye, madame! Thank you! Ciao, Serena! Ciao, Simona! Mi sa un po' di più di sei minuti, Laura! Oh, Dio! Ciao, Serena Bella! Oh, Dio! Va bene, io direi che può anche bastare, volevano essere voi tre minuti di risata, tanto resta online la diretta, quindi avrete una quindicina di minuti di risata! Ciao, Simona! Ciao, Katia! Cosa, no? Graziella! Ciao, Silvia! Ciao, Silvia! Ripeto, domani sera parliamo un po' di yoga della risata, ore 19, oggi faccio l'evento. Ciao, Daria! Ciao, Sabrina! Credo, dissi già la prima volta che rido in terrazzo così, Annelisa, e quindi non lo so. Ciao, Terry! Speriamo bene! Va bene, vi saluto ragazzi, grazie per essere passati di qua! Ahahahahaaa! Ahahahahaaaaa! Ahahahahaaaa! mi voglio tanto amore come direbbe Matteo ciao ragazzi ci vediamo questi giorni domani in diretta vi aspetto ciao un abbraccio a tutti voi